Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primissimo video acquisti del 2021. Sì, all'alba del 10 gennaio di quest'anno ho già fatto alcuni acquisti che oggi vi andrò a far vedere. Due piccole cose prima di iniziare, scusate un pochino per la luminosità ma oggi va così, ho cercato in tutti i modi di settare al meglio e questo è il massimo che sono riuscito a fare. Seconda cosa, da questo mese troverete in descrizione il link, nel caso in cui abbia effettuato acquisti su questo sito, per il sito web di vendita di manga e fumetti e figure manga me. Visto che ho voluto provarlo all'inizio di quest'anno, mi sono trovato davvero bene con spedizioni veloci e pacchi fatti bene e di conseguenza vi lascio il link in descrizione in caso in cui vogliate andare ad acquistare qualcosa su questo sito. Detto questo, senza perderci troppo in chiacchiere, direi di tuffarci in quelli che sono gli acquisti manga del mese di gennaio parte 1, ma prima di farciò, come sempre, mandiamo la nostra fantastica sigla. Partiamo subito con Star Comics, dal quale mi porto a dei volumi che attendevo tantissimo. In modo particolare oggi siamo qui col 26esimo volume di My Hero Academia. Ecco qui infatti il 26esimo volume di quest'opera, editata da Star Comics con un prezzo di copertina di 4,30€. Ecco qui la copertina del 26esimo volume con Deku, Todoroki, Bakugo ed Endeavor in primo piano. Come ormai sapranno un pochino tutti, e forse anche i muri, io adoro My Hero Academia. È un manga che riesce a gasarmi tantissimo e che ogni volta riesce a farmi apprezzare la storia scritta da Koei o Rikoshi. Non è nulla di troppo complicato, alla fine si tratta di un battle shonen, ma fa quello che deve fare, come appunto già detto anche nel video delle migliori letture del 2020, che vi lascio qua in alto nelle schede se ancora non l'avete visto. Divertente, pieno di combattimenti e ti gasa tantissimo. Io lo consiglio soprattutto a quelle persone che amano appunto i battle shonen, ma andiamo avanti. Altro volume di casa Star Comics che attendevo con impazienza, in quanto la storia mi sta piacendo tantissimo, probabilmente a causa del divertimento che questo manga si porta dietro, e sto parlando del quarto volume di Raw Hero. Ecco qui il quarto volume dell'edizione italiana, edita da Star Comics, con un prezzo di copertina di 5,50€. Ecco qui la straordinaria copertina di questo volume. Copertina che probabilmente mi causerà il ban da YouTube, in quanto si tratta di un'espressione abbastanza ambigua, ma devo dire che Raw Hero mi ha colpito positivamente per la semplicità della storia che quest'ultimo riesce a dare in ogni volume. Molto divertente, fatto da quel folle del padre di Prison School, e da questo possiamo capire appunto il livello dell'opera. Io lo consiglio soprattutto se cercate una storia breve, dato che è composto solamente da sei volumi, ma anche molto, molto divertente, che vi farà strappare una risata in più di un'occasione. Ma direi di spostarci a Planet Manga. Probabilmente questo volume porterà dei dibattiti all'interno della sezione commenti, ma è un'opera che già conoscevo molto bene anche a dire il vero e che ho voluto provare in questo formato. Qualcuno di voi magari avrà già capito di quale opera io sto parlando, e ovviamente mi riferisco alla Color Edition di Naruto. Ecco qui la copertina del primo volume, edito da Planet Manga, con un prezzo di copertina di 5,99€. Ecco qui la copertina del primo volume con Naruto Uzumaki in primo piano. Edizione appunto colorata di Naruto, opera che come ho già avuto modo di dire conosco molto bene e che a me piace molto. La peculiarità però di questa edizione è che esce in allegato alla Gazzetta dello Sport una volta a settimana. Rappresenta una buona occasione per recuperare Naruto se ancora non lo avete nella vostra collezione. Diciamo che però l'edizione non è ai livelli di quella della Full Color Edition di Dragon Ball, in quanto quest'ultimo utilizzava della carta plastificata, tra virgolette non mi viene il termine giusto, mentre questa qua usa una carta abbastanza standard e di conseguenza la colorazione non è al massimo dei livelli. Comunque secondo me rimane abbastanza valida e rappresenta quell'opportunità che magari molte persone stavano aspettando di collezionare Naruto. Ecco qui infatti vi faccio vedere degli esempi per quanto riguarda la colorazione e lo stile di disegno iniziale almeno di Masashi Kishimoto. Io non credo di andare avanti con questa edizione dato che, come ben sapete, possego già tutto Naruto. Ma andiamo avanti. Altro volume di una serie che a me sta piacendo tantissimo e che mi sta divertendo volume dopo volume è We Never Learn. Infatti oggi sono qui appunto, come ho già detto qualche secondo fa, con il settimo volume. Ecco qui appunto il settimo volume dell'edizione italiana, edito da Planet Manga, con un prezzo di copertina di 4,90€. Ecco qui la copertina del settimo volume con due delle cinque protagoniste femminili in primo piano. Come ho detto già più volte, a me We Never Learn sta piacendo tantissimo. Ovviamente non è una di quei manga che dici wow che capolavoro assoluto, ma rimane un ottimo passatempo, magari da leggere seduto sul cesso oppure sul treno quando state tornando dall'università, anche se ultimamente non è che si possa andare troppo all'università, oppure tornando a casa dal lavoro. Si legge in pochissimo tempo e secondo me è un'opera davvero divertente che tutti dovrebbero leggere. Questo sicuramente è l'acquisto più importante, ma anche quello di cui sono più felice di questo inizio gennaio 2021. Sto parlando della Complete Edition di Solanin di Inyo Asano. Eccola qui in tutta la sua magnificenza e la sua grandezza, edita da Planet Manga con un prezzo di copertina di 16,90€. Ecco qui la copertina di questo volume con un bellissimo paesaggio in primo piano. Opera che volevo recuperare da tantissimo tempo, che non vedo l'ora di leggere, dato che sono rimasto fulminato dalla bellezza della Città della Luce, sempre appunto di Inyo Asano. Ho aspettative davvero alte per questo volume e non vedo l'ora di leggerlo. Quando l'avrà finito magari vi porterò un post su Instagram oppure un video dedicato. Ma passiamo a J-Pop, la quale questo mese mi porta a una lettura di altissimo livello. E ovviamente non potevo che non riferirmi a Words and Arem. Ecco qui il decimo volume edito appunto da J-Pop con un prezzo di copertina di 6,50€. Ecco qui la copertina del decimo volume con la nostra pallavolista in primo piano. Lettura per i momenti di solitudine che comunque presenta una buona trama e tante, forse troppe, scene esplicite. Comunque devo dire che nella sua semplicità è sempre riuscita ad intrattenermi e divertirmi. Non fate la battuta sull'intrattenermi per favore, che non volevo intendere quello che state pensando. Ma comunque Words and Arem, nonostante il fanservice forse troppo spinto, è un'opera che presenta, come ho già detto qualche secondo fa, una buona trama di sottofondo. Penso che non manchi molto alla conclusione e sono davvero curioso di vedere come l'autore deciderà definire quest'opera. E con questo i manga si concludevano e possiamo passare ai fumetti. Che, come avrete già visto nel video degli acquisti manga di Natale, ho incominciato a collezionare da pochissimo. E siccome avevo voglia di una lettura ignorante e senza troppe pretese, ho recuperato il fumetto chiamato The Seased. Ed eccolo qui, edito da Panini Comics con un prezzo di copertina di 26€. Ecco qui la copertina di questo volume con Batman Zombie in primo piano. Come avrete già capito, è una di quelle opere ignoranti che si leggono a tempo perso. Parla appunto degli eroi della DC che a un certo punto diventano zombie e incominciano a mangiarsi a vicenda. Questo è il sunto dell'opera. Non è niente di troppo elevato, anzi è un'ignorantata pazzesca. Avevo voglia di una lettura di questo genere, quindi appena ho visto la copertina di The Seased, ho deciso di aggiungerla al carrello e di acquistarla. Ripeto, non è un capolavoro assolutamente, ma secondo me, se volete leggere qualcosina di ignorante, ma che allo stesso tempo vi possa intrattenere per un bel po' di tempo, quest'opera fa al caso vostro. Vi faccio comunque vedere qualche tavola per farvi capire quanto comunque questo fumetto sia disegnato bene. Guardate qui, i disegni a me piacciono molto. E con questo gli acquisti manga e fumetti del mese di gennaio 2021 sono conclusi. Fatemi sapere voi cosa avete comprato a questo inizio mese, ma fatemi anche sapere cosa ne pensate dei miei acquisti. Detto questo, il video si può concludere qui e io come sempre vi chiedo di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione è presente il link per il mio profilo Instagram, passate numerosi perché pubblico numerosissimi aggiornamenti per quanto riguarda il canale e qualche sprazzo di vita privata. E detto questo, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità di Maltality e noi quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!